Mister Bolzan, abbiamo visto una grande reazione da parte dell'Aquila dopo la sconfietta con il Chieti, soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa è salito un po' l'Avezzano, anche se è arrivato anche quell'incrocio dei pali colpito proprio nel finale da Maisto. La partita la possiamo dividere in due modi. Le occasioni create di entrambe le squadre, i tempi di gioco dove abbiamo dominato la partita, dove il Chieti, eh sì scusate, l'Avezzano ha tenuto il campo meglio di noi. Io sono molto soddisfatto dei ragazzi perché, hai detto bene, è stato un segnale di reazione, un segnale di attaccamento alla maglia. Eravamo in grossa difficoltà, io non sono una persona che va cercando gli alibi ma non mi piace nemmeno e stare a elencarli tutti i problemi che avevamo, tante defezioni di Paolo all'ultimo momento, Altare e Serrici hanno giocato stringendo i denti, che non stavano bene. Quindi tutto questo mi fa capire che è un gruppo che ci tiene e che fino alla fine lotterà per arrivare il più alto possibile. Ecco, mister, a proposito, ci sono anche altri giocatori infortunati nell'Aquila. Se ci può fare un po' un resoconto di quelli che sono gli indisponibili e quelli che possono recuperare in vista della prossima partita. Sinceramente faccio fatica, dite che sono tanti. Ad oggi sono tanti, sono contento però perché questi ragazzi, tutti quelli che hanno problemi, quelli che più o meno ce la facevano, donato la disponibilità pure stando male. E questo per me è la cosa più importante. Le defezioni sono tanti, quelli di oggi andremo a valutarli. Se qualche ragazzo mi chiedeva il cambio, ma praticamente non avevo molte più opzioni in panchina. Quindi portarvi a un punto siamo venuti per vincere, però alla fine ci possiamo anche accontentare perché io ho visto il giusto spirito del sacrificio da parte dei ragazzi. Commissario, se vogliamo chiudere con una battuta sull'addio di Zanon, anche se lei ha detto ieri alla vigilia che ha anche problemi fisici, il calciatore ha due irne alla schiena. No, lui non ha anche problemi fisici, lui ha problemi fisici alla schiena. Poi se poi è successo qualcosa altro io non parlo perché sono cose che a me non interessano.